Questo uomo verso di te. Prima il consiglio. Alla tua anima piace quando tu torni a ciò che è essenziale. Forse ti sei allontanata troppo da te stessa per questo uomo. Oggi festeggia il semplice fatto di respirare e di essere viva. Perché tutto ciò? In questo caso perché hai dato tanto e ti sei spesa molto per un amore che è stato innanzitutto sensualità e passione. Ti sei ritrovata davvero in questa posizione. Avvinghiata, anzi lui forse avvinghiato intorno a te. O forse anche tu. A un contesto che poi è diventato più ossessione che non sentimento e soprattutto sentimento condiviso. A cosa sei destinata? Apriti alle possibilità future. Se c'era un karma tra di voi lo avete pagato. Perché quello che si sta per avvicinare sta per entrare è l'amore vero.